Buonasera, in seguito al convegno su attaccamento e psicoterapia che si è svolto questa mattina all'Università Core di Enno, organizzato dal Dipartimento di Psicologia, abbiamo qui oggi il piacere di avere con noi Giovanni Liotti, è uno dei massimi esponenti della teoria dell'attaccamento, psichiatra e psicoterapeuta, ci dà la possibilità di chiarire alcuni aspetti in questa vasta materia. Professore, subito una domanda, secondo lei a suo avviso quale sarebbe l'iter terapico da seguire con un paziente con problematiche di attaccamento disorganizzato e trauma evolutivo? Ma ci sono delle linee guida, cioè è abbastanza codificato dagli esperti, sicuramente la prima tappa, quando si sospetta che questa sia la storia da cui viene la persona che ci chiede aiuto, la prima tappa è stabilire, stabilizzare il più possibile l'alleanza terapeutica e poi tornare su questo con priorità assoluta in ogni momento del percorso terapeutico, cioè anche nelle fasi avanzate, quando c'è una rottura dell'alleanza terapeutica che si era costruita, è importante dare priorità a ristabilirla prima di fare qualunque altra operazione. Quando questa alleanza è abbastanza solida, si sostiene che la seconda fase consiste nel tentare di stabilizzare i sintomi, che sono spesso dei sintomi di poca regolazione delle emozioni, di profondo perturbamento del paziente. Stabilizzare vuol dire non pretendere di eliminarli, ma indicare nel lavoro congiunto che c'è la possibilità di padroneggiare un'esperienza così disturbata come quella dei pazienti con queste storie. Per intenderci il paziente prototipico che viene da una storia di trauma evolutivo preceduta da un attaccamento disorganizzato è spesso classificato nell'area borderline, nell'area dei disturbi borderline di personalità. stabilizzare nel senso di mostrare insieme, nel lavoro insieme, che i sintomi possono essere tenuti in parte sotto controllo e di importanza fondamentale. Restituisce fiducia. E questa è la seconda tappa dopo l'alleanza terapeutica, la stabilizzazione dei sintomi. La terza poi è immediatamente successiva e mai precedente il lavoro eventuale sulle memorie traumatiche che possono essere state già accennate dal paziente, ma che ora possono avere un senso nel comprendere come si sia formato il quadro clinico, l'insieme di disturbi che la persona presenta. E se anche questo viene rinviato non è un male, perché la fase più importante è poi quella ancora successiva, che è la fase in cui si cerca di facilitare l'integrazione degli stati, dell'io, dei modi di sentire che non sono sufficientemente integrati in questi pazienti. E l'attaccamento disorganizzato, tornando all'inizio della domanda, ci fa vedere come fin dall'inizio della vita le rappresentazioni che si possono costruire nella memoria di sé e degli altri possono avere una forma tale da essere incompatibili l'una con l'altra. Quindi non porre tanto un conflitto, ma una reale impossibilità di dare una descrizione coerente di se stessi, a se stessi e agli altri. Quindi alla fine della terapia si arriva a fronteggiare l'esito principale dell'attaccamento disorganizzato del trauma evolutivo, che è la non integrazione degli stati dell'io. Ognuno di questi passi richiede delle competenze, ma grosso modo questo è l'itinerario. Grazie professore per questa risposta. La prossima cosa che volevo chiederle era, collocandoci all'interno della prospettiva cognitiva evoluzionista, in che modo i sistemi motivazionali possono guidare la riuscita di una psicoterapia? La prima risposta, la prima domanda, la risposta alla prima domanda in qualche modo già lo contiene. Quando si forma un'alleanza terapeutica, si crea una situazione di dialogo in cui il registro motivazionale attivano i due interlocutori e il registro della cooperazione. La cooperazione ovviamente tiene conto della differenza di ruolo. Il terapeuta definisce più o meno le regole della terapia, l'altro è il paziente che chiede aiuto, però nell'alleanza terapeutica si trova una possibilità di collaborazione nel fatto che si definisce insieme l'obiettivo, il senso di quello che si sta facendo. Se ci si riesce, fin dalle prime fasi del trattamento, questo è un bene proprio perché essendo attivo il sistema motivazionale che ci fa sentire l'uno vicino all'altro nella cooperazione verso un obiettivo comune, non è attivo, non è molto attivo il sistema motivazionale dell'attaccamento, che è quello che contiene le memorie traumatiche, che contiene le rappresentazioni non integrate. Quindi diventa possibile creare un rapporto all'interno del quale lentamente si può esaminare quello che è successo a livello di attaccamento, minimizzando la possibilità in genere poco gestibile che invece il sistema di attaccamento si diventi attivo all'interno della relazione terapeutica, cioè sia quello che motiva il paziente nel dialogo. È comprensibile, è normale che lo sia, ma non è bene che lo sia, perché altrimenti vince per così dire la rappresentazione antica che si è formata, che è quella dell'attaccamento disorganizzato e il terapeuta viene visto in questo modo non integrato e drammatico che è tipico degli esiti dell'attaccamento disorganizzato. Se facciamo ricorso a un altro sistema motivazionale come quello cooperativo, ce ne proteggiamo. Che altro dire? È poi molto utile sapere che non esistono a motivare la relazione umana solo il sistema dell'attaccamento, che è il sistema che ci porta a chiedere cura, ad affidarci all'altro perché ci aiuti quando siamo dolenti o in difficoltà, e poi il sistema cooperativo che invece è quello con cui fissiamo insieme degli obiettivi e fianco a fianco li perseguiamo. Ma esistono anche altri sistemi che motivano la relazione umana. Ovviamente tutti conoscono il sistema sessuale che non è né attaccamento né cooperazione, è un sistema che porta a tutt'altra intenzione, a tutt'altra intenzionalità nel cercare la relazione con l'altro. Probabilmente tutti possono intuire che esiste anche un sistema competitivo, un sistema di rango, il cui obiettivo non è chiedere aiuto, ma definire chi comanda e chi obbedisce in una relazione, per dirla nella maniera più semplice e primitiva possibile. E poi esiste il reciproco del sistema di attaccamento, che è il sistema di accudimento, in cui uno si dispone volentieri a offrire aiuto, non a chiedere aiuto, ma a offrire aiuto all'altro. E probabilmente ne esistono anche altri, come il sistema di affiliazione a gruppo o il sistema di gioco sociale, che sono fra loro vicini. Insomma, fra i 5 o 6 sistemi che ho nominato, che possono alternarsi nel regolare la relazione umana, è un bene che il terapeuta possa intuire quali di momento in momento possono affiorare che non siano l'attaccamento e la cooperazione. Quindi la conoscenza, come dire, orienta molto nel dire dove siamo, che cosa sta motivando il paziente a parlare con me e a motivare me a parlare col paziente. È il sistema di richiesta di cura da parte del paziente e di offerta di cura da parte mia? È il sistema invece in cui ci troviamo tutti e due intenzionati a perseguire un obiettivo congiunto che può essere capire meglio cosa stia succedendo nella vita del paziente, per esempio, o nella relazione terapeutica. O è ancora un altro sistema. Per esempio il paziente si pone in una posizione di sottomissione che non è richiesta. O è il terapeuta invece che non sopporta di essere criticato dal paziente e quindi di essere messo in una posizione di giudizio da subire. Ecco, questi altri sistemi tendono normalmente ad affiorare nella relazione umana. Conoscerli aiuta il terapeuta a dire recuperiamo l'alleanza terapeutica. In altre parole potrei dire che tutti i sistemi motivazionali, tranne quello cooperativo, quando diventano attivi nella relazione terapeutica, ed è normale umano che diventino attivi, impediscono, ostacolano, limitano l'alleanza terapeutica. Quindi vanno monitorati, sorvegliati per tentare di ricostruire o riparare l'alleanza terapeutica. Questa è una regola che vale per tutte le terapie perché, come probabilmente chi ci ascolta sa o ha sentito, l'alleanza terapeutica è il più forte predittore di buon esito delle terapie, indipendentemente dalle tecniche usate. C'è moltissima ricerca che lo dimostra. Se la dia del terapeuta paziente, qualunque sia la scuola del terapeuta, riesce a funzionare nelle coordinate dell'alleanza terapeutica, quindi del sistema cooperativo, è molto probabile che la terapia andrà a buon esito. E viceversa, se non riesce a funzionare così, è molto probabile che non andrà a buon esito. Allora, questo vale per tutte le terapie. Con i pazienti di cui stiamo parlando vale all'ennesima potenza. Più degli altri hanno bisogno, proprio per il grande, come dire, la grande ferita, se mi permettete la metafora, la grande ferita al sistema d'attaccamento. Più di altri hanno bisogno di interagire in terapia sul piano paritetico. Grazie al professore Liotti, che è stato abbastanza chiaro ed esaustivo nelle sue risposte. Ringraziandolo per il tempo e la disponibilità e per il prezioso contributo che ci ha concesso. Io vi do appuntamento alla prossima occasione con gli eventi di Encore Web TV. Grazie.